ciao bambini oggi super masha e super guffetta andiamo nel castello delle principesse si si chiama castello fiabesco ed è pieno di principesse volete venire con noi andiamo eccolo il castello eccolo wow castello fiabesco come nelle fiabbe wow ora lo dobbiamo aprire e aiutare le principesse a fare le loro camere da principesse e dobbiamo anche scoprire che principesse sono si dobbiamo scoprire i nomi delle principesse ora apriamo questo gigante pacco con il castello abbiamo due principesse lei sembra rapunzel si avete indovinato sono rapunzel e lei chi potrebbe mai essere dai bambini e mia amica sforzatevi lo so che non riuscite a capirlo perché volevo ingannarvi io sono frozen e lei anna ciao bambini questo è il nostro castello magico e ora voi dovete costruire la nostra camera da letto sì allora bambini qui c'è un'altra principessa salve principessa io sono masha ciao masha io sono la principessa di questo castello ora ci tocca a costruire tutto il castello infatti sì ragazze l'abbiamo fatto apposta per farvelo costruire ti piace costruire i castelli sì mi piace tanto giocare nei castelli con le principesse io adoro le bambole allora sei venuta nel posto giusto ora apriamo questo bellissimo set di principesse abbiamo l'armadio ragazzi guardate bellissimo i fiori le maniche è tutto dorato scaffali e anche le gabbine per l'armadio wow poi c'è il letto che bella coperta che belli cuscini qui c'è il fettine è un comodino che si apre chissà dove va che bel letto la coperta bellissima oh sì la mia coperta del mio letto è fantastica vero bambine cuscini brillanti coperta brillante l'armadio tutto in oro come la mia corona sia bellissima principessa oh questo è il mio preferito comodino cosa mettiamo su questo comodino principessa di solito mettiamo le candele che sono la dentro le abbiamo quasi trovato le candele eccole oh com'è bella la mia camera ci state riuscendo da dio bambine ora tocca prendere il comodino dove mi trucco che bella che sono e lo specchio ecco e ora tocca al castello bambini guardate che bel castello c'è scritto beautiful sopra guffetta che fai lì ero dietro il castello cercavo di guardare come è fatto dentro ma non si vede dobbiamo girarlo e vedere mi sa che c'è una bosca o forse una doccia giriamola allora per scoprire sì e io mi siedo sul letto wow guffetta avevi ragione c'è un specchio e una doccia per le principesse oh sì un altro specchio qui il comodino principessa mi scusi l'armaggio al letto wow oh scusami principessa sono così da stamattina oh forse perché non hai le forze ti senti bene sì mi sento bene bambini secondo voi è bellissima questa camera della principessa secondo noi sì vero bambini ma ciao chiesto ai bambini non a te ma loro piacerà di sicuro quello sì è fantastica vedi se proviamo a dormire su questo letto io ci sto e io no uffa le mie gambe non ci stanno bambini oh togliamo la maschera oh che caldo io sono super masha super masha super masha super masha e tu guffetta io sono super guffetta siamo super peggiamini con la super super masha principessa principessa ci facciamo conoscere altri nostri amici oh ma certo non vedevo l'ora ora principessa ci presentiamo ai nostri amici lei è peppa pig salve principessa io sono peppa pig e anch'io ho una corona mi piace tanto il suo vestito oh grazie peppa anche a me piace il tuo vestito sei molto elegante la ringrazio mi metto di qua si spostiamo un po il letto oh grazie così riesco a stare in piedi vicino alla principessa lui è superman come super masha però è superman salve principessa io sono superman e salvo le persone quando sono in pericolo oh che bel lavoro superman allora sei bravissimo grazie che salvi tante persone niente no no guffetta ci stavo seguendo dove sei sparita cosa fai qui salve principessa io sono gecko sono amico di guffetta siamo super peggiamini in tre dov'è gatto boy non lo so dov'è gatto boy gecko pensavo a con te no non è con me no non è con me strano va bene sto qua un po con voi oh bambini allora siamo tutti qua aiuto a indovinare chi sono queste due piccole principesse si chi sono chi sono volevamo saperlo anche noi allora bambini vi sveliamo il segreto io sono rapunzel e lei è anna ciao bambini siamo rapunzel e anna come mai avete fatto così fatica a riconoscerci infatti è strano ragazzi ciao mascia ciao guffetta ciao principessa ciao peppa ciao superman e ciao gecko mancavo solo io avete già vi siete già presentati io sono george pick sono fratello di peppa pick piacere george che belle munizioni che hai grazie sono anche super comodi non te li chiedo di provare perché di sicuro non mi staranno bene oh ma sono comodissimi bambini vi giuro sono comodo comodo qua per strada ho preso queste candele che mi sa che qualcuno le voleva portare via invece le sono cadute eccole grazie sono le mie candele non so come mai erano per strada ora che siamo in tanti bambini vi dico che questa è una casa delle favole quindi vi racconto una favola c'era una volta una principessa che stava bene e ha conosciuto tantissimi nuovi amici e peppa pick e pigiamini superman e anche mascia e orso oh io sono qui io sono orso piacere ciao bambini piacere sono orso piacere orso io sono principessa e ora lei è super contenta perché nessuna principessa non ha così tanti amici come lei quindi bambini vi ringrazio tutti voi e anche voi mi raccomando guardate i video del canale iscrivetevi e divertitevi con noi soprattutto questi video nei angoli sono veramente divertenti a me piacciono tanto tanto ora vi saluto bambini mettete un like mi raccomando andiamo andiamo siamo super figli a me piacciono tanto io Grazie a tutti.